Parole d'impresa, 10 voci, 10 storie di coraggio e innovazione, in collaborazione con Trentino Sviluppo. Di medie e grandi dimensioni, con sede a Rovereto. Diamo subito il benvenuto al direttore generale di Energenius, Claudio Peroni. Ciao e bentrovato. Salve a tutti, buongiorno. È un piacere essere qui. Come nasce Energenius e come nasce soprattutto l'idea di questa start-up? L'idea nasce un paio di anni fa dal sottoscritto e da un energy manager della provincia di Bergamo, in cui abbiamo pensato di mettere insieme le competenze elettroniche su cui mi sono formato io negli anni, con le competenze energetiche dell'altro nostro socio. Da lì abbiamo parlato con altre aziende in realtà che potevano essere interessate e abbiamo creato Energenius, che appunto è un'azienda che si occupa di misurare i consumi in realtà di medie e grandi dimensioni e attraverso le informazioni che riceviamo dai misuratori, dalla piattaforma software, dagli strumenti che utilizziamo, riusciamo ad andare a individuare le inefficienze delle aziende e a farle risparmiare sull'energia consumata. Ma esattamente poi quest'idea come vi è venuta? Cioè osservando, studiando, come? Allora, per la direzione dell'idea c'è venuta la macchinetta del caffè, quando forse la testa la scorre più liberamente ai pensieri. Io mi occupo di questo tema ormai dal 2008, per cui insomma sistemi di raccolta dati e di monitoraggio sono un po' il mio pano. Giuseppe e gli altri soci poi che sono uniti, quindi l'azienda Energy Saving, che è parte integrante appunto di Energenius, conoscevano il mercato, conoscevano le esigenze e quindi la cosa si è sposata bene e siamo riusciti a creare per il momento una bella realtà in quanto siamo ormai in sei persone, quindi oltre al sottoscritto abbiamo poi assunto altri quattro, sia esperti di energia che invece ragazzi che si occupano del mondo dell'elettronica e dell'informatica. Quindi un bel team, giovane e pieno di idee, ma come nasce anche la vostra collaborazione con Trentino Sviluppo? Beh, Trentino Sviluppo è stato fondamentale nella nostra partenza, nel senso che ci ho offerto spazi, agevolazioni e servizi per consentirci appunto di iniziare con ovviamente spese ridotte che all'inizio pesano e affiancandoci poi nel percorso di crescita e nello sviluppo del modello di business. Grazie mille al nostro ospite. Allora Claudio Peroni, direttore generale di EnerGenius. Grazie a voi. Anche EnerGenius ha partecipato al percorso di pre-incubazione di Trentino Sviluppo. Sentiamo di cosa si tratta. Le imprese innovative trovano l'infa nelle buone idee, ma per crescere hanno bisogno di esperienze e strumenti complessi che possono spaventare o mettere in difficoltà i nuovi imprenditori. Per supportare la fase di avvio delle start-up, Trentino Sviluppo propone il servizio di pre-incubazione, un percorso completo che al costo di un caffè al giorno, 30 euro al mese, offre la possibilità di partecipare ai corsi del percorso formativo dedicato allo sviluppo delle doti imprenditoriali Innovation Academy, il supporto di tutor e consulenti specializzati e l'opportunità di fare reti con altre imprese del proprio settore. La pre-incubazione è quindi un'occasione per mettersi in gioco, sviluppare la propria idea e testarla prima dell'ingresso sul mercato. Il servizio di Trentino Sviluppo si rivolge agli ambiti Energia e Ambiente e Meccatronica, a cui fanno riferimento gli spazi di pre-incubazione dedicati Greenhouse e Starter di Rovereto, specializzati nel supporto delle nuove imprese in questi settori strategici per il territorio. I risultati non mancano, sono oltre 130 le realtà che hanno già colto questa opportunità e oltre un terzo di queste oggi sono realtà attive sul territorio. Numerose hanno poi proseguito il percorso all'interno degli spazi di incubazione e di Trentino Sviluppo. Per saperne di più è possibile consultare il sito trentinosviluppo.it nella sezione Diventa Imprenditore. Parole d'impresa, 10 voci, 10 storie di coraggio e innovazione, in collaborazione con Trentino Sviluppo.